Il mio compagno di banco che si chiama Gianfranco sulla mia sedia questa mattina ha messo una puntina e quando mi sono seduta gli ho tirato un acuto ed il maestro si è tanto arrabbiato e così mi ha interrogato ma ditemi voi se è possibile che la colpa di tutto la danno a me Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di bere il cioccolato ma cosa me ne importa vi basterà una fetta e una giornata storta ritornerà perfetta e una giornata storta ritornerà perfetta Nel pomeriggio ai giardini c'erano tanti bambini e c'era pure il mio amico Edoardo che ha fatto scoppiare un petardo E così con quel botto ha spaventato un bassotto Indovinate chi è che ha rincorso alla fine mi ha dato anche un morso ma ditemi voi se è possibile che la colpa di tutto la danno a me Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di bere il cioccolato Ma cosa me ne importa vi basterà una fetta e una giornata storta ritornerà perfetta Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di bere il cioccolato Ma cosa me ne importa vi basterà una fetta e una giornata storta ritornerà perfetta Ho studiato la storia quattro poesie a memoria un po' di scienze e di geografia ho fatto l'andalusia Poi il diario ho guardato uffa avevo sbagliato compiti no non ne avevo da fare potevo andar fuori a giocare Ma questa volta mi sa proprio che la colpa di tutto la do solo a me Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di bere il cioccolato Ma cosa me ne importa vi basterà una fetta e una giornata storta ritornerà perfetta Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di bere il cioccolato Ma cosa me ne importa? Mi basterà una fetta E una giornata storta, ritornerà perfetta Insomma, non si canta bocca piena Ma cosa me ne importa? Mi basterà una fetta E una giornata storta, ritornerà perfetta E una giornata storta, ritornerà perfetta Ritornerà perfetta